La febbre sale, l'attesa è tanta, non si sa ancora quanta gente ci saranno e quanti biglietti verranno messi a disposizione dei tifosi del Catania, ma di sicuro quello del Franco Scoglio sarà un derby con una bella cornice di pubblico. Dopo una serie di contrattempi, compreso un problema tecnico che si è registrato stamattina, è finalmente partita la prevendita in vista della sfida di domenica. È partita però solo a Messina, con un temporaneo divieto di vendita ai residenti a Catania e provincia. Temporaneo perché dall'osservatorio è arrivato un via libera di massima, dunque a questo punto toccherà alla prefettura di Messina la decisione definitiva, che potrebbe arrivare già oggi pomeriggio dopo l'ennesima riunione organizzativa programmata per fare in modo che attorno a questo derby tutto fili liscio. Tra le cose che verranno esaminate c'è il numero di biglietti da mettere a disposizione dei tifosi del Catania, il Messina ha detto di essere pronto a darne anche 2000, ma difficilmente sarà questa l'indicazione della prefettura. Più probabile un compromesso per tentare di ridurre i rischi legati a un match che comunque è molto sentito e mette di fronte due piazze divise da una forte rivalità. Aspettando la prefettura, Catania e Messina lavorano sodo sul campo per preparare al meglio un match che ha molti significati, oltre a essere un derby è una sfida tra grandi ex da una parte e dall'altra ed è partita che può valere tanto, anche in prospettiva, per tutte e due le squadre. Il Catania deve vincere per svoltare in trasferta e continuare la rincorsa a un buon piazzamento playoff, il Messina per iniziare bene l'era proto e allontanarsi dalla zona pericolo, considerato che presto potrebbero arrivare anche delle penalizzazioni per il mancato pagamento degli stipendi dei calciatori entro il termine stabilito. Sul fronte formazione il Catania dovrà rinunciare solo a Baldanzèdù e Di Cecco che stanno lavorando a parte nel Messina da valutare le condizioni degli acciaccati Rea e Grifoni. Torneranno sicuramente disponibili invece Palumbo, Bruno e Madonia che hanno scontato le rispettive squalifiche.